Bella a tutti, bella a tutte, sono Rania De Villate e vi volevo invitare a una mega serata che ci sarà il 31 maggio al Crocevia d'Alessandria Ci saremo io, Pecoz, Kento e il fratellone Chef Ragu che non vedo da un botto Non vedo da un botto anche Bria Sound e sono contento di vederle anche loro nella casa E ci saranno anche Nattiruz con le loro selezioni Mi raccomando non mancare, 31 maggio, Crocevia, Alessandria PAM! Reggae Pop!